Uno dice che le cose vanno male, andiamo a fare due risate, come si dice, si direbbe a Roma, a Cina, ma non ci pensiamo, ed è un ragionamento, poi c'è qualcuno che dice no, io voglio capire perché le cose vanno come stanno andando, allora chiediamo magari consiglio, ci facciamo una chiacchierata con un amico al bar, chiediamo consiglio a chi ne sa più di noi, allora chi ne sa più di noi? Per esempio Shakespeare, Shakespeare è uno che sa più di noi su quello che è l'uomo in generale, per come commette in continuazione gli stessi errori e non riesce, ammettendo gli errori, non riesce però a non smettere le cattive abitudini. Un contesto del genere, che è una metafora del potere, ti fa capire perché per esempio non funziona la politica, perché i meccanismi della politica non riescono a rinnovarsi, perché i vecchi che dovrebbero dare il potere ai giovani a parole lo fanno, ma nei fatti poi i giovani non riescono a essere migliori dei padri e alla fine poi il mondo non va avanti, vado a Villa Borghese a correre, vado con i miei figli e continuo a vivere gioiosamente, ma non risolviamo mai i problemi, non so come dire, se non affrontiamo la politica in un modo serio. Ammettiamo che al contrario di come succede oggi, i vecchi non vogliono mollare la loro poltrona, mettiamo che accada, cosa succederebbe? Se non altro per questo il testo diventa di grande attualità, si potrebbe dire ai giovani, attenzione, priva di andare avanti nel percorso, nel rinnovare, parlo a te per esempio, devi fare le cose non per convenienza, ma per quello che senti. L'ultima battuta del testo dice questo, noi giovani ora se vogliamo cambiare le cose dobbiamo dire quello che sentiamo, non quello che ci conviene. Portiamo a teatro un bellissimo testo, una grande storia che racconta così come un padre per amore anche delle figlie, per amore del proprio, per correttezza, lascia il posto ai giovani. Vogliamo a questo punto dare un piccolo appello anche ai giovani e ai nostri padri. Diciamo che è chiaro che poi fondamentalmente Shakespeare è un creatore di spettacolo, abbiamo detto delle grosse parolone attorno alla tragedia della vita, alla politica, poi qua fondamentalmente ci si ama, ci si ammazza, ci si diverte, c'è la vita, c'è la vita che si gioca su questo palcoscenico, i personaggi sono tanti e accadono tante di quelle cose che alla fine naturalmente l'applauso liberatore del pubblico è uno degli spettacoli, poi parliamo anche di cose concrete, che ha più successo in questo momento in Italia è perché c'è sia la zona che diverte, la zona che fa piangere e c'è anche la zona poetica, perché Shakespeare è sempre stato anche un grande poeta, non lo dimentichiamo. I giovani sanno quello che devono fare, bisogna mettere in condizioni di farle le cose che loro pensano, è chiaro che se si deve fare una politica teatrale, i biglietti, parliamo per esempio per i ragazzi, perché ci sono città in Italia dove il pubblico è soprattutto giovanile, parlo di Perugia, parlo di Bergamo, siamo stati recentemente a Bergamo, c'è un prezzo accessibile, perché vale anche questo, un giovane molte volte non va a teatro, perché magari pensa che spendere 30 Euro per una partita di calcio va bene, andare a teatro, vabbè ma 30 Euro, ci pensa due volte, è una questione anche di trovare il modo di accostare i giovani a un certo tipo di cultura che è una cultura che poi, una volta vissuta l'esperienza, difficilmente se ne distacca, cioè il teatro credo che sia la forma più divertente, è un po' come il cinema, è il padre del cinema e del teatro, è la forma più divertente ma anche più pedagogica e più educativa che esiste rispetto a tante altre forme di spettacolo. Anche perché, questa la dico la mia, a teatro non si può falsare il risultato, è il pubblico che lo decide, grazie ai loro attori. E allora buona serata e grazie mille. Grazie a teatro. Se la politica oggi in Italia è un problema di, soprattutto di, come si è detto all'inizio, di dividersi le torte e ciascuno di portare a casa il proprio interesse, non è più quella politica passionale che stava andando dopo guerra. Adesso la gente veramente, c'è una crisi interiore, non diceva che dice anche della politica. Nel finale di Shakespeare c'è il giovane, e dirà la battuta compulsiva, quando dirà l'ultima battuta, adesso tocca a noi giovani, dopo la morte di Corriere, adesso tocca a noi giovani, i vecchi hanno sofferto l'ultima battuta, adesso tocca a noi giovani. Dobbiamo dire, ma dobbiamo dire quello che pensiamo, non quello che ci conviene per cambiare le cose, dobbiamo dire quello che pensiamo, non quello che ci conviene. Purtroppo oggi le persone, tutti, per convenienza fanno le cose, e la convenienza potrà probabilmente a un disfragimento dei valori.